In aula proda il documento preliminare del programma regionale per lo sviluppo 2021-2025, documento chiave per segnare le linee guida per la ripartenza della nostra regione. In sintesi, tre gli assi di transizione individuati sui quali concentrare progetti e risorse economiche, l'asse ambientale, quello digitale e quello sociale. Un atto molto importante che in ogni legislatura rappresenta un po' il piano strategico del governo della regione. Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, si interconnette con gli altri atti che sono al centro del dibattito, ovvero il piano per la ripresa e la resilienza che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale approvato il 30 aprile e dall'altro ai fondi strutturali comunitari perché siamo al crucivia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare da un punto di vista culturale, economico, sociale quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture valorizzando il corridoio tirrenico ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre, non solo sul piano fisico ma anche sul piano immateriale perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social è un obiettivo perché lo vediamo quando si riesce a creare la connessione lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Però una Toscana solidale perché lo vediamo da un punto di vista del contrasto all'emergenza Covid è una Toscana che tende a dover investire su quello che noi riteniamo essere una priorità, il sistema sanitario con i nuovi ospedali, con le nuove case della salute, con la telemedicina che ci aiuta a far fronte a quello che è l'esigenza primaria dei cittadini, la salute. Io ritengo che il piano regionale di sviluppo possa essere naturalmente integrato da quello che è il lavoro che possono fare i singoli gruppi, i singoli consiglieri e noi alla fine del mese di luglio lo possiamo raccogliere con il frutto di queste integrazioni per una versione definitiva che sia orizzonte strategico di governo nei prossimi cinque anni. I punti che emergono da questo piano sono quelli ambientali, intendendo uno sviluppo sostenibile per quanto riguarda il futuro, sono quelli della coesione sociale, sono quelli della innovazione tecnologica. Su tutti questi tre temi sono individuati 15 attività strategiche e circa 27 progetti che riguardano ogni territorio della Toscana. Dovremo sempre andare di più ad affermare l'economia circolare, ad una sanità che anche seguendo le indicazioni venute dal Covid vada a rafforzare la sua integrazione tra il sanitario ed il sociale, che valorizzi la sua rete ospedaliera e poi l'innovazione tecnologica, non soltanto applicata all'impresa, quindi alla produzione artigianale e industriale, ma anche alla pubblica amministrazione e quindi ad una maggiore velocità nella risposta che dovrà essere data ai cittadini e alle imprese. È una grande occasione perché la Toscana nei prossimi anni potrà usufruire delle risorse provenienti dal settennato 21-27 della programmazione ordinaria per quanto riguarda l'FSE, per quanto riguarda il POR, per quanto riguarda lo sviluppo regionale, a quali però si assommeranno le risorse provenienti dal PNRR, vale a dire il Piano Nazionale di Residenza e Rilancio. E quindi grande occasione per cercare anche di riunire e di riconnettere quelle tre toscane a cui fa riferimento l'IRPET, vale a dire quella più ricca, più dinamica, quella centrale, più urbanizzata, con la costa e le aree interne che hanno maggiori difficoltà ma che hanno mostrato proprio in questa fase pandemia anche delle grandi potenzialità per quanto riguarda lo sviluppo, anche di carattere turistico. Il Piano Regionale di Sviluppo dovrà essere costruito all'indomani di questa comunicazione attraverso uno stretto rapporto con i territori e come gruppo del Partito Democratico noi abbiamo indicato queste priorità ma anche la modalità con la quale costruire il Piano, vale a dire una presenza sui territori, una negoziazione dal basso, una capacità di coinvolgimento di tutti i territori e di tutte le nostre comunità. Dichiarazioni roboanti, si è passati dalla parola resilienza alla transizione che si fa un po' per tutto, in realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. È ovvio non tutto va male ma il Governo regionale ci deve mettere in condizioni, deve mettere il Consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria con un percorso chiaro perché i tempi del PNR sono tempi molto stretti, entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti, entro il 2026 sostanzialmente è finito tutto, pena la perdita dei finanziamenti e in questo senso e concludo va purtroppo il ritardo dei tanti piani e programmi di cui la Regione Toscana si è dotata o si dovrebbe dotare, dalla tutela delle acque ai piani faunistici allo stesso piano di mobilità integrata, sono tutti piani o scaduti o assolutamente non completati ad oggi, il che significa naturalmente rischiare di essere in ritardo rispetto al treno dei fondi europei. Staremo a vedere. 750 miliardi, arriveranno tanti soldi, la Regione Toscana si prefigge di impegnarli in tante belle opere, abbiamo sentito parlare di garantire l'occupazione, di rilanciare un nuovo Green Deal, di avviare un percorso che ci dovrebbe portare a centrare gli ambiziosi obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU in termini di migliorie ambientali, ma poi nel dettaglio non si affronta un tema concreto. Ci sarebbe piaciuto sapere come in Toscana cosa vogliamo fare per superare il digital divide. Ci sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più sulle infrastrutture, perché i 750 miliardi che l'Europa fa arrivare in Italia non sono un regalo, 360 di quei miliardi andranno restituiti entro il 2058. Quindi o si investe in qualcosa che in futuro porta una monetizzazione in Toscana, che porti interesse, che si riescano a capitalizzare questi soldi, oppure quello che oggi sembra un regalo, sembra un pacco regalo, potrebbe diventare un incubo. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi molti che arriveranno in Toscana si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche e tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su autorizzazioni e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono i medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Quindi quello che secondo noi si prospetta è l'ennesimo fallimento di politiche che sono sempre le stesse trite e ritrite e soprattutto che non mettono l'attenzione sul territorio e sul benessere delle persone. Dopo la pandemia sappiamo benissimo che il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima. Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivate a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAI era già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana. Creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide che ancora è fortissimo nella nostra regione. Sappiamo benissimo che ci sono zone in cui la connessione è ancora assente. Abbiamo una grande opportunità che arriva anche dai fondi europei ma dobbiamo essere pronti per poterli spendere avendo una visione di futuro, non certo rimanendo ancora al passato. Noi come Lega abbiamo fatto una serie di proposte, qualcuna il PD ce l'ha approvata, qualcuna ce l'ha bocciata ma pensiamo che sia utile e lo chiediamo nuovamente a questa maggioranza cercare di lavorare insieme per portare risposte ai territori della Toscana. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività, della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica perché la tenuta sanitaria di una regione determina sviluppo economico. Questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta dal garante nell'anno 2020 e ha assunto anche l'impegno di dotarlo delle strutture necessarie per rendere effettivo lo svolgimento della propria attività. Apprezzamento da parte del Consiglio regionale per l'attività svolta dal garante dei detenuti nel 2020, regione che si impegna a rafforzare l'ufficio e ad assicurare la finalità rieducativa della pena e rinserimento. Il dottor Fanfani, il nuovo garante per i detenuti della regione toscana, ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana, sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento. Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le due REMS che abbiamo in Toscana, quella di Volterra e quella di Empoli, e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale. Nella relazione resa dal garante c'è un'attenta disamina anche delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari della regione toscana e anche degli altri luoghi di detenzione come ad esempio le camere di sicurezza istituite presso le forze dell'ordine. Arriveremo alla soluzione ottimale quando ci sarà un garante non solo per i detenuti ma un garante anche per chi opera nei carceri e chi sbaglia paga. La lega su questo è molto chiara, lo è sempre stato. C'è il problema delle carceri che occorre affrontare con provvedimenti come un nuovo piano carcere, quindi si impegna il garante anche in questa direzione. Massimo rispetto per la figura di Giuseppe Fanfani che ammiro nella sua professionalità, nella sua storia, ma ovviamente per quanto riguarda le carceri noi siamo veramente proprio di un'altra visione delle cose. Il garante detenuti è una funzione importante che noi sosteniamo, è un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri e ricordo la questione del carcere di San Gimignano dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino le condizioni anche di legalità all'interno delle carceri. Noi abbiamo chiesto al garante di impegnarsi di più sul fronte anche dei rapporti con la polizia penitenziaria che oggi sono completamente assenti e leggere che un garante dei detenuti operi soltanto in una direzione e non coinvolgendo entrambe le anime che per la vita del carcere convivono all'interno e si aiutano anche reciprocamente nella vita del carcere. Il garante noi lo interpretiamo come una figura che vada ad avvalorare questa cooperazione e non che faccia l'avvocato difensore di una parte contro l'altra. Non è questa la figura che a noi piace, è per questo che ad oggi non siamo ancora convinti dell'operato del garante Fanfani. Non è questa la figura che vada ad avvalorare questa cooperazione